Proporre esclusivamente il mantenimento di due province avrebbe significato consegnare al governo la decisione capoluogo di provincia a potenza, ipotesi che potrebbe alimentare una deriva separatista da bloccare. Plaudendo al senso di responsabilità e adeguato realismo espresso in aula, il capogruppo PD Braia tra i primi interviene sul sì del Consiglio alla proposta da inviare a Roma sul mantenimento delle due province e in subordine valorizzare potenza capoluogo regionale Matera capoluogo provinciale della provincia unica di Lucania. Scritta una pagina seria, tesa a preservare l'unità della Basilicata per il consigliere PD Restaino che ritiene velleitaria l'ipotesi che il Parlamento riesca a modificare i provvedimenti in tema di riordino delle province e non valere molto il furore riformistico del meglio nessuna provincia che non risolverebbe l'equilibrio interno. Tesi dell'IDV ribadita dal capogruppo Autilio che riconosce, in attesa che si aboliscano tutte le province, Matera a sede dell'eventuale provincia unica è l'unica soluzione possibile e immagina che in questa fase si possa organizzare al meglio il territorio pensando ad organismi intermedi.